amici di motorsport.com ciao a tutti e ben trovati a questo nostro nuovo motorsport report dedicato alla prima gara della stagione 2021 del moto mondiale e della moto gp ovviamente in mia compagnia come sempre matteo nuñez nostro responsabile delle due ruote ciao matteo ciao marco e allora iniziamo subito a parlare del gran premio di moto gp del catar sul tracciato di los ailes che ci regala un vincitore a sorpresa maverick vignales davanti alle ducati di zarco e di francesco bagnaia a sorpresa ma fino a un certo punto dai nel senso che a livello di passo gara maverick ci aveva fatto vedere di avere in mano qualcosa di importante il dubbio che avevamo tutti era se sarebbe stato in grado o meno di sorpassare le ducati perché le ducati avevano veramente delle velocità mostruose sul rettilineo basta vedere il record che ha fatto zarco sabato 362.4 quasi più adatta a un aereo che non a una moto e invece maverick è riuscito a sfruttarlo alla grandissima il suo passo gara in una gara in cui la gestione delle gomme bisogna dire che ha fatto alla fine abbastanza da padrone allora io vorrei iniziare ad aprire il nostro report ovviamente parlando di di vignales ma anche della grande delusa della prima gara del mondiale mi riferisco a a ducati che aveva impressionato alla grande nei test con un miller che era partito con ovviamente chiare ambizioni di vittoria senza neanche senza neanche nascondersi un bagnaia autore della prima pole position vestito di rosso ufficiale e che poi invece torna a casa con un secondo e un terzo posto tra l'altro secondo posto a firma zarco sulla moto del team satellite pramac allora in realtà per la ducati le cose sembravano anche essersi messe abbastanza bene perché in partenza è sembrato veramente quasi di vedere quattro dragster contro delle moto due e si erano messi in parata nelle prime quattro posizioni con primo bagnaia secondo miller poi zarco e addirittura orga martin che era riuscito a risalire fino alla quarta posizione però poi qualcosa è andato storto perché da una parte c'era un vento che soffiava molto forte che soffiava contrario rispetto al rettilineo di partenza e questo ha tolto qualcosa a livello di top speed dalla ducati che comunque ha dato la sensazione di avere un vantaggio enorme in ogni caso dall'altro la gara si è disputata proprio per questo con una temperatura più bassa rispetto sia ai giorni precedenti che a quelli dei test invernali e questo ha mandato un po in crisi le desmose di cgp con la gomma posteriore hanno accusato un calo che è arrivato repentino prima di quanto si si sarebbero aspettati e anche se nella prima parte di gara sia bagnaia che miller che zarco tutti hanno detto di aver provato a gestire il ritmo proprio per arrivare alla fine con un po di gomma si sono trovati molto in difficoltà nel finale io ho apprezzato tantissimo la grinta con cui pecco ha provato a difendersi da vignales prendendosi anche una ruotata con tanto disegni di gomma sulla tuta però a un certo punto era evidente che maverick ne avesse veramente tantissimo di più anzi per come poi è venuto su joan mir riuscire a essere riusciti a piazzare due moto sul podio alla fine forse ci stava la grossa esultanza all'interno del box ducati perché a un certo punto non era neanche più così tanto scontato ecco diciamo che se uno va a guardare l'albo d'oro è vero che ducati veniva dalle ultime due vittorie quelle del 18 del 19 a firma di andrea dovizioso ovviamente ce lo ricordiamo tutti l'edizione del 2020 non si è disputata disputata per ovvi motivi ma è altrettanto vero che a livello di vittorie assolute a yamaha ad averne un numero maggiore rispetto a tutti gli altri partenti moto gp 8 contro le 5 della ducati e le 3 della della onda quindi è vero che lo sail è un po la pista ducati stando a guardare le ultime le ultime vittorie l'ultima edizione del gran premio ma a conti fatti a yamaha la moto da battere da questo punto di vista sì e non bisogna dimenticare che maverick vignales aveva iniziato la sua avventura in yamaha proprio vincendo allo zaila la sua prima gara in sela la m1 nel 2017 esattamente quindi anche a maverick è una pista che piace aveva fatto la pole position due anni fa quindi è una pista che lui apprezza diciamo che forse in questo trend incide anche il fatto che la ducati ha avuto parecchi anni in cui pensare di vincere un gran premio era obiettivamente oltre l'utopia e in quegli anni invece la yamaha ha vinto molto in epoca recente sicuramente lo zaila è stato un grande terreno di caccia per la ducati e molti li vedevano favoriti anche ieri mi ci metto compreso anch'io che parlando con gli amici aveva addirittura predetto una tripletta ducati quindi diciamo che due due lei presi mancava solamente il primo ecco esatto esatto e questa secondo me è una cosa che dà ancora più valore alla vittoria di vignales che secondo me è stata veramente una grande prova di maturità per maverick perché sia nei test che nei giorni del weekend aveva detto quasi come un disco rotto che l'unica chance di vittoria era mettersi davanti alla partenza e fare il ritmo invece al via si è ritrovato settimo ed era questa è la classica condizione in cui maverick si aveva abituato a perdere completamente la testa invece questa volta è rimasto focalizzato sull'obiettivo che era mantenere il ritmo giusto e non ha sbagliato niente è stato veramente chirurgico passo perfetto bravo nel fare i sorpassi che da sempre lui sostiene che siano un punto debole della Yamaha e si è meritato assolutamente questa bella vittoria sul discorso dei sorpassi arriviamo al punto che ha detto che è stato più contento di essere riuscito a sorpassare le Ducati che di aver vinto la gara per far capire quanto lui ritiene che questo sia un handicap dell'M1 in questo momento ecco diciamo che se questo è l'antipasto del prossimo gran primo di MotoGP che si disputerà questa domenica sempre sulla pista di Los Ailes sicuramente ci sarà ci sarà da divertirci perché se uno va a dare un'occhiata alla classifica abbiamo i primi dieci staccati o meglio racchiusi in appena nove secondi e tre decimi dal primo maverick Pignales al decimo che mi piace sottolineare essere Enea Bastianini assolutamente sì Enea ha fatto un grande esordio in MotoGP è rimasto un po indietro nella prima parte ma poi ha sfoderato veramente una bella rimonta al punto che negli ultimi giri della gara era tra i più veloci in pista e infatti ha sottolineato come forse se fosse partito meglio si sarebbe addirittura potuto piazzare davanti a Jack Miller che ha chiuso da nono davanti a lui insomma per un debuttante se fosse riuscito a mettersi dietro l'uomo di punta del marchio per cui corre sarebbe stato un biglietto da visita davvero niente male. E invece chi aveva un po illuso le speranze dei tifosi almeno il sabato in qualifica anche per aver sfruttato un ottimo traino quello del poleman Francesco Bagnaia è Valentino Rossi il dottore che chiude fuori dalla top ten dodicesimo senza mai essere sembrato in grado di poter condurre una gara d'attacco e soffrendo molto sulle gomme. Sì praticamente è rimasto i primi 3-4 giri attaccato alle altre 2 M1 di Vignales e Quartararo poi piano piano è iniziato a perdere colpi e è precipitato sempre più indietro diciamo che gli anni passano ma la musica che si sente dopo le gare è un po sempre la stessa Valentino si lamenta di mettere troppo sotto stress la gomma posteriore però alla fine appunto passano i gran premi ma non si trova mai una soluzione per cercare di ridurre questo problema sulla sua M1 che sta diventando di fatto il suo grosso tallone d'Achille. Da questo punto di vista si è beccato anche una frecciata un po' da Quartararo che molti continuano un po' a vedere come un usurpatore. Una gannonata più che una frecciata ecco diciamo le cose come stanno perché ha sparato ad alzo a zero sul dottore. Sì non era diciamo non l'ha detta proprio così cattiva però il messaggio che passa insomma è un po' quello perché lui ha detto anch'io ho avuto lo stesso problema di Valentino ma io ho finito la gara quinto. Lui lo ha fatto un po' per sottolineare la sua maturazione spiegando che l'anno scorso probabilmente avrebbe fatto la gara di Valentino anche lui invece è riuscito a non perdere la testa e a gestire la situazione. Restando in casa Yamaha invece poi va detto che c'è anche chi povero non ha avuto modo di gestire niente che è stato Franco Morbidelli perché di fatto si è rotto il sistema all shot sulla sua Yamaha ancora prima del via che è il sistema quello che regola l'altezza del posteriore. Ovviamente la moto gli è rimasta schiacciata per tutta la gara e guidare in quelle condizioni era veramente improponibile perdeva da 1 a 3 secondi tutti i giri ed è un peccato perché Franco nonostante una moto di vecchia generazione secondo me è un serio candidato al titolo. Sicuramente staremo a vedere cosa cosa succederà questa domenica. Chi invece ha concluso in maniera non propriamente felice la sua prima uscita da campione del mondo in carica è Johan Mir pilota della Suzuki campione del mondo come appena detto che fino all'ultima curva era secondo per poi ritrovarsi quarto una volta superato il traguardo. Diciamo che Mir è stato l'altro insieme a Vignales che è riuscito a gestire le gomme arrivando alla fine con più grip rispetto agli altri e stava riuscendo a sfruttare questa cosa perché a tre giri dalla fine ha trovato il sorpasso su Bagnaia mettendosi terzo poi lui stesso ha ammesso di essere stato forse un po' troppo ingordo che avrebbe potuto accontentarsi di chiudere terzo finire sul podio su una pista dove storicamente lui non è mai andato fortissimo mentre invece ha esagerato ha cercato di andare a prendersi anche il secondo posto era riuscito a passare Zarco ma poi sapendo del grande divario di motore con la Ducati ha esagerato forzando la staccata dell'ultima curva per cercare di prendersi più margine possibile però purtroppo è andato largo e a quel punto lì largo sullo sporco fuori traiettoria quando è stato il momento di spalancare il gas le due Ducati lo hanno sfilato veramente come se fosse fermo. La sensazione qui è sempre la stessa che il grosso tallone d'Achille della Suzuki è la qualifica loro non riescono a sprigionare il potenziale della GS XRR con la gomma nuova e quindi partono sempre indietro. Il giorno che questi riescono a fare un time attack decente e a partire davanti sono dolori per tutti perché nella seconda parte di gara nessuno ha il passo che hanno loro. Vabbè fino a quel giorno noi ci gusteremo gare sicuramente a vincenti a firma dei due Elfieri Suzuki mentre chi è cresciuta veramente tanto ed è stata autrice di un ottimo weekend soprattutto secondo me di un ottimo gran premio è senza dubbio Aprilia che chiude dico addirittura il settimo posto con Alexis Pargaro a meno di sei secondi dal vincitore. La crescita è stata evidente e si aspettava molto la prova della gara perché sul time attack avevamo visto che ormai la RSGP non era troppo distante dalle moto migliori però bisogna dire che in gara ha mostrato un potenziale assolutamente interessante. Alex ha spiegato di aver fatto molta fatica all'inizio col pieno di carburante con la moto più pesante e devono trovare la soluzione per renderla un po più veloce perché ha perso parecchio terreno all'inizio nella fase centrale della corsa però poi era diventato tra i più veloci in pista tant'è vero che era attaccato alla ruota di Mir e anche lui stava venendo su con il campione del mondo probabilmente per fare questo sforzo ha chiesto un po troppo alle gomme e quindi poi ha accusato di nuovo un calo nel finale però insomma vedere un'apriglia a meno di sei secondi dal vincitore ragazzi e tanta roba davanti alla onda poi non dimentichiamo. Infatti mi ha anticipato sul prossimo argomento in scaletta ovvero l'ottavo posto della prima onda e della prima onda che rici al traguardo quello dell'esordiente con la casa dell'ala dorata ovvero di Paul Espargarò. Anche per Paul alla fine secondo me il giudizio può essere tutto sommato abbastanza positivo mi spiego bene chiaramente da un pilota ufficiale della onda si vuole di più dell'ottavo posto questo è ovvio però anche anche lui ha circa sei secondi di distacco dal vincitore e ha fatto notare come praticamente più di metà di questo l'ho accumulato nei primi tre giri e a fine gara ha spiegato che probabilmente viste le cadute che aveva avuto nel corso del weekend ha preferito essere molto cauto all'inizio della corsa senza rischiare troppo quando la moto era pesante e in più ha pagato il fatto di partire dalla quarta fila che sicuramente nella moto gp odierna non aiuta mai lui è convinto che partendo più avanti e attaccando un po di più all'inizio magari sarebbe potuto stare anche lui con con i migliori quindi me lo aspetto più battagliero nella gara di domenica prossima senti siamo praticamente in chiusura di questo nostro report io ti volevo chiedere una battuta su ktm che la vera sconfitta secondo me di questo weekend perché la prima moto di matigofa in altra guarda quella di oliveira tredicesimo davanti a binder quattordicesimo mentre non è andato proprio nel migliore dei modi l'esordio del nostro danilo petrucci in sella alla moto austriaca è no purtroppo l'esordio di danilo è andato proprio male perché praticamente ha fatto solo la prima curva e poi alla seconda si è steso danilo ha spiegato di aver avuto un contatto con alex marquez ma non si è assolutamente lamentato dicendo che non era colpa di nessuno che in quelle fasi della gara quando sei nel gruppone è stato un normale contatto di gara purtroppo non è il modo migliore per cominciare ma non credo che avrebbe raccolto più di tanto in ogni caso visto che come hai detto tu un pilota come oliveira che ormai la ktm la conosce come le sue tasche e che ha dimostrato di poter vincere in sella quella moto soprattutto si è arrivato solo tredicesimo sapevamo già che lo zail non è la pista adatta alla ktm perché anche l'anno scorso avevano fatto una gran fatica su questo tracciato diciamo che gli aspettiamo al varco a portimao dove l'anno scorso oliveira aveva letteralmente dominato con paul vittorio giro veloce se non vanno neanche lì diciamo che inizia ad essere un problema e parlando della prossima gara ovviamente si tratta di un back to back sullo stesso tracciato che gran premio di rosail ti aspetti io non mi aspetto la replica di questo perché secondo me il clima ieri ha inciso parecchio con il vento e e la temperatura più bassa io penso che se si va a correre in condizioni normali sono disposto a prendermi in rischio ma vediamo a tornare alla vittoria la ducati staremo staremo a vedere di sicuro amici di motorsport.com quello che vogliamo sapere sono le vostre previsioni che seconda gara del catar vi aspettate fatecelo sapere nei commenti sotto a questo video su tutti i nostri canali social e ovviamente al sito internet motorsport.com io vi ricordo di provare il la nostra sezione prime che è in offerta con il primo mese gratuito e poi al costo praticamente di meno di due caffè al mese vedete provate non costa nulla e dateci fiducia di sicuro faremo l'impossibile per non deludervi io ringrazio Matteo Nunes per averci regalato questa analisi dettagliata del primo gran premio del 2021 della moto gp grazie Matteo grazie a te Marco e ciao a tutti e noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com ciao a tutti